Notizia scioccante, la figlia di 15 anni della famosa VIP è stata uccisa. Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di immergervi nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Ora, passiamo a una notizia veramente sconvolgente. Una tragedia ha colpito una famosa modella e la sua quindicenne figlia durante una vacanza in Turchia. Le prime informazioni suggeriscono che entrambe siano state vittime di un terribile omicidio, con segni evidenti di colpi di arma da fuoco. La scoperta dei loro corpi legati e avvolti in lenzuola ha reso la situazione ancora più inquietante. Le indagini si stanno focalizzando sulla ricerca del secondo figlio della modella, un bambino di soli 5 anni, che al momento è disperso. La modella in questione è Irina Dvizzova, di 42 anni, di origini russe, che è stata uccisa insieme alla figlia Diana, di 15 anni, mentre si trovavano in una località turistica in Turchia. È rilevante notare che Irina aveva intrapreso azioni legali contro il suo ex marito lituano, Andrei, lo scorso giugno, con l'obiettivo di ottenere l'affido esclusivo del suo giovane figlio Makar, ora scomparso. Gli investigatori stanno lavorando duramente per comprendere il motivo dietro questa tragica perdita, e all'interno della villa in cui la modella e i suoi figli alloggiavano sono stati rinvenuti importanti indizi, tra cui tracce di impronte maschili e segnematici.